È arrivato il rialzo previsto di Bitcoin del mercato crypto, una reazione fuori assolutamente logica dopo i dati di ieri sulla questione del tasso di inflazione, ma ragazzi contro il trend non si va mai e Bitcoin proprio dalla giornata di ieri ha iniziato due candele verdi e ha iniziato il nuovo ciclo probabilmente di natura mensile e sta iniziando una nuova fase di ripresa. Ma il dubbio più importante in questo momento di mercato è che cosa dobbiamo andare a guardare per comprendere se effettivamente questa fase di reprise del trend rialzista che abbiamo visto da dicembre e gennaio 2023 potrà continuare o meno perché questa fase proprio questi giorni qui sono estremamente delicati. Allora qual è il grafico da andare a controllare? Quale grafico ci può dare un'informazione in più rispetto a quello che già abbiamo visto nel grafico della scorsa settimana? Prima di andare avanti iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ragazzi anche per seguire queste vicissitudini, questa saga, la saga potremmo chiamare delle crypto per l'anno 2023, il ritorno al bull market. Ovviamente c'è tanto 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 da fare io tiro ancora il bitcoin e lo lancio vediamo un po' questa volta è girato oh questa volta si va va beh magari funziona al contrario. Allora detto questo iniziamo dal grafico standard che abbiamo visto anche nella giornata di lunedì vi faccio rivedere un po' tutto quello che è la struttura ma poi andiamo a guardare quello che effettivamente è un grafico molto delicato, ne guarderemo due, un grafico di spread con i mercati classici anche per comprendere quello che appunto potrebbe essere la difficoltà di questa fase. Sennò che ragazzi allora sono ancora tre giorni di inizio di questo nuovo trend al rialzo, questo livello della media mobile a 21 periodi sta bloccando in questo momento la fase rialzista, è ovvio che faccia un po' di attrito e questo potrebbe anche portare fra magari non proprio oggi ragazzi ma magari domani potrebbe portare a una candelina rossa magari di respiro del mercato. C'è da dire però che la struttura vedete di rialzo si sta appoggiando a una doppio livello di resistenza cioè uno dato dalla media a 21 l'altro questa oscillazione quindi questa che era la fase la barra vedete che aveva tenuto alla bitcoin in fase ancora rialzista poi bercata nella giornata del 9 di febbraio che poi è andato direttamente subito a fare un dampone e il minimo. Nella giornata successiva uno standard per bitcoin il breakout di questo livello di resistenza che è il 22.008 in questo caso esattamente il momento in cui attualmente sto registrando questo video. Io con il superamento anche della media a 21 il riposizionamento di bitcoin in questa zona cioè 23.04 stancirebbe sostanzialmente una potenza una forza molto forte per essere ridondante di bitcoin e quindi una probabile continuazione di questo movimento al rialzo. Invece se bitcoin già inizia a stentare nel superamento di questo livello che vedete 22.008 potrebbe anche indicare che i giochi sono fatti. A questo punto una view che dovremmo tenere in forte considerazione resta sempre quella della possibile fase di ripresa di questa struttura che teoricamente è al ribasso e che quindi qui ha fatto poi uno swing di correzione della precedente fase ribassista ma che poi dovrà andare appunto a scendere. E' proprio su questo ambito che andremo a trattare probabilmente non so se venerdì ragazzi stesso nel video di venerdì o nel video della prossima settimana la teoria dei minimi di maggio teoria sulla quale vi ho fatto una richiesta e mi avete risposto quasi tutti favorevolmente nei commenti di youtube. Vi avete detto Mauro andiamo per complotti andiamo per la teoria della fase del minimo di maggio e andiamo a vedere che cos'è certo lo andiamo a vedere quindi vi preparo questo video ragazzi pollicioni in su perché poi non mi dite che non vi ascolto quindi pollicioni in su mi raccomando. E lo faremo a breve però non oggi ragazzi ok perché è un video dedicato a cui volevo dedicare appunto proprio esattamente il tempo giusto per andarlo a valutare. Questa struttura ad oggi ragazzi non ci dà nuove informazioni aggiunte se non che dal punto di vista ciclico dobbiamo ancora attendere poi un'eventuale chiusura di almeno una struttura ciclica settimanale cioè almeno otto giorni al di sopra di questo minimo in modo tale da indicare con probabilità che su questo minimo è iniziato appunto un nuovo ciclo mensile e anche un nuovo ciclo trimestrale di bitcoin. Però insomma ancora è possibile assistere a una fase cattivella che si chiama lingua di buyer ragazzi ok? Una fase in cui il mercato potrebbe fare una struttura del genere prima di andare effettivamente nel nuovo trend. Quindi questi giochini che vi sto dicendo sono molto comuni nei mercati finanziari e sono delle correzioni anche da un punto di vista ciclico vengono definite lingue di buyer. Ma da un punto di vista di analisi tecnica è un classico andare a pescare quelli che sono ancora i volumi sotto per andare a chiudere determinati stop dei long e poi riprendere il treno quindi in sostanza degli stop hunting. Questo potremmo definirlo la cosiddetta anomalia ciclica lingua di buyer potrebbe essere definita come una tecnica di stop hunting. E no un po' vagano entrambe le cose. Se non che comunque a livello temporale non c'è necessità che per il mercato di realizzare una lingua di buyer in questo caso una correzione appunto. In quanto è vero che il tempo sufficiente è un po' poco 84 giorni non è proprio un trimestrale lungo però è sufficiente assolutamente per avere una ripresa. C'è anche da dire che i mercati sostanzialmente rialzisti che hanno molta forza non stanno tanto tempo ragazzi a dare punti di ingresso. Anzi non li danno quasi mai quindi il touch e la ripresa è abbastanza comune e bitcoin non è la prima volta che fa cose del genere. Quindi anzi vi dirò francamente anche questa fase di bassista mi sembra un po' eccessiva e anche qui mi ha dato un po' di dubbio sul fatto che questa fase possa continuare. Se non che comunque l'ingresso in DIP l'ha dato quello famoso di cui abbiamo parlato perciò questa fase diciamo va bene così alla fine ci ha dato proprio il DIP eccetera. Tra le altre cose ci sono alcune cripto che possono essere anche tradate in questa fase o potevano essere tradate per chi di voi amava il bad e DIP perché magari potrebbero dare maggiore intensità se bitcoin in effetti iniziasse questa nuova fase di ciclo annuale e confermandola appunto iniziata a novembre. Ora da qui questo movimento può continuare sì o no c'è un altro grafico che volevo mostrarvi appunto che non ha a che fare con quello che abbiamo visto e che indica un nodo veramente importante che potrebbe spingere secondo me una view anche anticipatoria su quello che il grafico stesso di bitcoin potrebbe fare. Cioè il grafico dello spread bitcoin contro nasdaq 100 cioè la forza relativa di bitcoin contro nasdaq 100. Vi spiego questo grafico per chi di voi ancora non lo conoscesse ma moltissimi lo conoscono già perché lo abbiamo utilizzato per avere un'indicazione valida anche delle chiusure dei cicli annuali di bitcoin che come vedete sono segnati e sono veramente incredibilmente precisi. No sono cicli annuali lunghi lo so a chi amanti della ciclica dicono no non è possibile non è vera questa cosa perché non esiste una regola da questo punto di vista in quanto i cicli ragazzi sono cicli non è che solo analisi di natura fisica no come diciamo insomma regole matematiche determinate. No è possibile che non aspetta di faccia un po' più lunghi assolutamente soprattutto se è iper rialzista come bitcoin quindi non è anomala una cosa del genere poi qualcuno li vuole considerare due fatene due insomma stessa cosa tanto alla fine sempre allo stesso punto si arriva. Quindi se qui è iniziato in effetti vedete una nuova struttura questo grafico dello spread ci dà una nuova visione anche di bitcoin una visione diversa rispetto a quello che vediamo sullo grafico diretto del dollaro. Un grafico di spread è un grafico in cui si mette in relazione una asset con un altro asset in questo caso quello di bitcoin viene creato andando a dividere BTC USD con US 100 in questo caso ho utilizzato il CFD di Nasdaq e non il future per evitare di avere dei ritardi dei dati su TradingView. Però in pratica è l'espressione se dovessi tradurlo in una definizione letteraria è l'espressione di un asset nel valore di un altro asset è come se noi stessimo guardando bitcoin in termini di Nasdaq 100 quindi non in termini di dollaro non in termini di euro ma in termini di un altro asset capito? Espresso il numero di asset fate per esempio una logica potrebbe essere una mela espressa in pere cioè quanto vale una mela vale una pera in mezzo ok questo è il concetto al vetto il discorso qui possiamo vederlo da un punto di vista grafico quanto vale un bitcoin in termini di un Nasdaq 100 vale un Nasdaq virgolo 82. fa ridere no cosa che fa ridere però a noi ci serve questa cosa perché perché vogliamo vedere la forza relativa è più forte bitcoin è più forte Nasdaq 100 e soprattutto quale indicazione abbiamo da questo grafico che è veramente interessante perché è un'alternativa intanto questo grafico settimanale di lungo periodo non mi piace utilizzare di breve in questo caso qui abbiamo la media 200 che insomma vedete è più o meno simile alla questione di bitcoin che l'ha breccata che c'è il debt cross sulla media 200 sul 5 50 perché poi alla fine questi grafici di spread assumono molto la volatilità non la struttura dell'asset più volatile che in questo caso è bitcoin stesso se non che però qui è abbastanza evidente come bitcoin il minimo l'abbia fatto a novembre e che quindi la chiusura dell'annuale di giugno teoricamente da questo grafico viene meno ragazzi perché vedete alla pulizia che si ha anche nel guardare un grafico di questo tipo ci dava un'informazione esattamente aggiuntiva quindi qui oltre a indicarci i cicli molto ripetitivi e questo ciclo pur quanto insomma essendo molto lungo può essere estremamente ritenuto comunque valido c'è da dire tra le altre cose che qui a dire la verità ragazzi è sbagliato il eccolo qui ve l'ho messo meglio perché c'era una leggera differenza perché a me non piace utilizzare le shadow bensì mi piace utilizzare vedete i minimi per questo le minime il minimi delle chiusure su questi grafici vedete non le shadow proprio perché essendo dei grafici a spread quindi non a valori reali è interessante fare insomma ragionarle in questo modo se vedete qui che poi ci sono delle strutture infatti che sono diverse dalle close in linea di massima da qui questo grafico sancirebbe l'inizio quindi di un nuovo ciclo annuale e non c'è un'altra più perché a meno che appunto non si vada a considerare questo ma è un po' questo massimo non dà la possibilità questo massimo avvenuto proprio su ottobre non dà la possibilità di avere un annuale iniziato qui perché questa ripresa lo annullerebbe completamente perché insomma qui c'è stato un breakout qui e poi un nuovo massimo perciò ragazzi sostanzialmente il grafico di spread nasdaq bitcoin ci dice in maniera abbastanza chiara non chiarissima mancherebbe qualcosina ma chiara che sul minimo di novembre iniziato un nuovo annuale e ci dà l'indicazione che questa nuova fase di ripresa di bitcoin può avere le carte in regola per continuare nei prossimi mesi continuare nei prossimi mesi significherebbe annullare la teoria del minimo di maggio di cui andiamo a parlare poi nelle prossime settimane ed è interessante perché potrebbe indicare anche per magari gli amanti dell'holding che il posizionamento che magari è stato fatto in questa zona potrebbe essere in effetti tenuto da un punto di vista ciclico quindi saremmo in questa nuova struttura in un ciclo ancora una volta semestrale da 150 a 160 giorni che comunque ci porta vedete a maggio nella struttura di maggio con una teoria di minimo però in questo caso anche questa struttura ci indicherebbe che maggio potrebbe essere non un minimo assoluto ma un minimo relativo la differenza tra un minimo assoluto e un minimo relativo è che un minimo assoluto è il minimo di un bear market il minimo relativo è il minimo di uno swing a ribasso che però non è un minimo assoluto quindi questo minimo assoluto questo minimo relativo sono due strutture diverse se dovessimo quindi ragionare su questa ottica che ci indica il grafico dello spread bitcoin Nasdaq 100 qui dovremmo avere una ripresa con obiettivo superamento di questo livello che è una non resistenza ragazzi una super resistenza perché qui abbiamo i massimi precedenti abbiamo anche il incrocio delle due medie quindi la media 50 soprattutto e la 200 per quanto sia poco rilevante in questa fase quindi questa zona ragazzi decreterà ufficialmente l'inizio del nuovo ciclo annuale da qui proprio in maniera oggettiva ma soprattutto questa fase di ripresa se effettivamente quello che ci stiamo dicendo in questo video sarà confermato poi da bitcoin dovrebbe avere tranquillamente la forza di fare una cosa del genere prima di andare appunto a chiudere questa fase a questo punto possiamo anche volendo andare a indicare quello che potrebbe essere un'area temporale di un possibile massimo stiamo ragionando però sul futuro stiamo ragionando veramente con la spera di vetro quindi prendete questo dato che adesso vi dico non l'analisi finora, l'analisi finora che abbiamo fatto ragazzi è un'analisi oggettiva mentre l'analisi che adesso stiamo andando a vedere cioè la possibile area di topping di questa fase rialzista è invece una previsione della palla di vetro quindi idealmente potrebbe essere lì ma prendetela ovviamente con le pinze perché non è molto preciso ragionare così e cioè in questa zona marzo 2023 marzo fine marzo vedete 2023 potrebbe essere una zona di topping di questa prima fascia quindi questa fase qui quindi fine marzo abbiamo un mese e mezzo più o meno per raggiungere un top di questa zona che è questa struttura qui prima di andare poi eventualmente in una fase ribassista e tutto dovrà avvenire in questo ciclo mensile eventualmente e nell'eventuale prossimo ciclo mensile quindi bitcoin a questo punto ha le armi cariche, ha le possibilità, quello che deve fare lo sappiamo ragazzi superare questi livelli abbiamo visto il grafico che bisogna guardare in questa fase per avere un'idea generale ed è fondamentale quindi a questo punto la struttura dei prossimi giorni attenzione all'eventuale trappolona del stop hunting di cui vi parlavo magari lo approfondiamo, una cosa del genere sarebbe una lingua di buyer ciclica è una trappolona da stop hunting, attenzione a questa cosa se lo fa sorridete non vi arrabbiate perché succedono cose del mercato che bisogna accettare però non cambierebbe in ogni caso anche con uno stop hunting verrebbe tutto traslato di una settimana, questo sostanzialmente è il concetto tutto quello che vi ho detto non cambierebbe, verrebbe traslato di un'altra settimana però ovviamente Bitcoin in quel caso metterebbe i bastoni fra le ruote renderebbe tutto estremamente difficile, complesso e pericolosissimo vabbè detto questo fatemi sapere cosa ne pensate mi raccomando tenete sott'occhio questo grafico noi ci rivediamo nel prossimo video, ciao!